La seconda giornata di The State of the Union, anche il governatore Ricorossi ha partecipato ai lavori, ha chiesto di ripensare il modello e la concezione dell'Europa. Palazzo Vecchio apre le porte all'Europa. In una blindatissima Firenze, controllata palmo a palmo dalle forze dell'ordine perché l'allerta è massima dopo gli attentati al cuore del vecchio continente, il futuro dell'Unione resta una questione di grande attualità che accende la discussione, almeno tra gli addetti ai lavori, in occasione di The State of the Union. Le sfide da affrontare su tutto il fenomeno migratorio cambieranno la fisionomia degli stati nazionali e per il presidente della Toscana, Enrico Rossi, oltre alle parole servono i fatti per ripensare l'Europa del domani. Io sono convintamente europeista, sono assolutamente convinto che il nostro futuro passa dall'unità europea, da uno Stato europeo che si confronta con il mondo, che affronta problemi dell'immigrazione, dell'economia, della guerra, come Stato europeo oppure come singoli paesi non andiamo da nessuna parte. Anche chi alza i muri la dà a bere ai cittadini. All'Europa dico però anche che un'Europa così com'è non va bene, perché è un'Europa ingiusta, è un'Europa che non pensa ai disoccupati, che pensa poco alle donne, è un'Europa dei potenti, dei gruppi finanziari, è un'Europa che si dimostra alla fine poco solidale. L'Europa dei padri fondatori nostri, penso tra tutti Altiero Spinelli, era anche un'Europa sociale, era anche un'Europa dove si garantivano i diritti fondamentali. Non è più così. Quindi questa Europa bisogna starci ma va cambiata, bisogna pensare al lavoro, ai diritti, ai diritti degli uomini, delle donne. Se non avviene questo è un'Europa che rischia di essere percepita come lontana, distante.